Ciao a tutti, andiamo a ricordare un altro calcolatore. Nel ultimo, ricordiamo più di 300 differenti calcolatori e scrivitori diversi. Quindi, se ti piace, unite il canale. Questo è un'addixt, è molto semplice, ma è bello. È uno dei molti cloni dell'addixt, sviluppato da Joseph Paul Weber nel 1903. Vedete, questo è un'addixt, con due lette D, e non addixt. La presenza del calcolatore riuscita mi fa pensare che sia un modello di circa 1920. È molto vecchio, ma ancora funziona. Joseph Paul Weber era un ingegnero austriano e giocatore. È considerato l'inventore delle calcolate con numeri dappi. questa. La prima versione di questa macchina addixt aveva un metodo complicato per risolvere il calcolatore a zero. Tavatevi presso l'unione di clicca e riuscire diversi calcolatori con la mano. Quindi i primi modelli non avevano alcuni calcolatori come questo. Giuseppe Paul Weber, insieme ad Adolphe Bort, ha installato l'addixt per sviluppare e vendere queste macchine. Inoltre la procedura di risoluzione complicata, si vendono abbastanza bene, perché erano più valori che gli altri calcolatori di quel periodo. Adolphe Bort ha sviluppato altre macchine basate sull'addixt. in questo meccanismo. Inizia da circa 1906 c'era il Diera, che aggiunge il livello di risoluzione, che lo vedete anche qui. Quindi non era necessario capire direttamente i giraggi, e gli adddixt potrebbero avere un calcolatore. Come ho detto, è una macchina semplice di aggiungimento. Potete utilizzarlo solo per aggiungere numeri fino a 19.99. Prendete il numero qui, e in tre rile qui vedete il risultato. Proviamo a fare qualche aggiungimento. 21, 7, 14. 21, 28, 35. Vedete, è molto limitato, ma puoi usare per raccontare boxe, fare l'invento, raccontare semplice, eccetera. E è molto legato. Puoi prendere questo calcolatore con te stesso, in campo, in fabbrica, a scuola. È stato il primo calcolatore per usare parte in alluminio, più leggero che in stile. La compagnia ha stato considerato molto importante da l'ingegnero che lo ha designato. Vedete? C'è un pollo per lasciare i meccanismi dentro muovere fuori dall'interno. Non avevano voluto avere un grande calcolatore. Possiamo anche vedere dentro questo calcolatore. Ci sono due strade. Ora è aperto. Ora è aperto. Qui c'è un numero seriale. Potete vedere il calcolatore muovere quando pressi i numeri. E il livello riserva tutto. Il funzionamento è molto semplice. C'è un calcolatore. Quando pressi un numero low, diciamo il 1, il calcolatore muovere un po' Se pressi un numero più grande, diciamo il 5, il calcolatore muovere più. e dopo un ruolo full turno del ruolo il calcolatore muovere il prossimo disc un passo. Quindi aumenta il ruolo del 10 per uno. Vedete? Lo stesso succede con il 100 quando il calcolatore del 10 rende un ruolo full turno. Con questo livello riserva tutte le ruole. Ingenio, non è? E questo è molto forte. dopo 100 anni è ancora lavorato. Grazie a tutti per ascoltare. Nel prossimo video vedremo un altro calcolatore un calcolatore di Torpedo del 1930. Vi vedete in breve e piacere i nostri calcolatori.